E' arrivata ancora la cicogna a Cartigliano e non è solo un modo di dire. Dal 2020 infatti ogni anno una copia di cicogne bianche selvatiche nidifica con una vista sul fiume Brenta. Una specie fortemente minacciata che ha visto scegliere il territorio bassanese come nuova casa. E anche quest'anno lo straordinario evento, una quarta nidificazione che ha portato gioia ma anche qualche preoccupazione per i volontari. Un solo pullo al posto dei cinque esemplari venuti alla luce lo scorso anno. Il piccolo che dovrà essere maggiormente protetto in questi giorni è stato vigilato amorevolmente dalla sua mamma e sta muovendo per la prima volta le ali pronto per l'involo. Una femmina di cicogna, quest'ultima, munita di anello identificativo nata in libertà quindi selvatica che ha scelto di costruire il suo nido a ridosso del fiume Brenta per regalare a tutti noi ogni anno l'emozione di una nuova nascita.